Bar chiusi e stoppa la vendita di alcol per evitare i comportamenti che favoriscano il contagio. Il governo sudafricano ha avverato nuove misure per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. Si aggiungono alla lista di quelle già imposte dieci giorni fa, tra queste rigorose quarantene restrizioni ai viaggi dai per il paese, quando in Sudafrica è stata scoperta una nuova variante del virus, simile a quella britannica. D'ora in poi è obbligatorio per ogni persona indossare una maschera negli spazi pubblici. Chi non indossa una maschera di stoffa che copre il naso e la bocca in un luogo pubblico commette un reato e potrebbe essere arrestato e perseguito, ha detto il presidente. Inoltre è stata disposta la chiusura di piscine pubbliche e spiagge e c'è il coprifuoco dalle 9 alle 6 di mattina. Ormai in Sudafrica si contano un milione di contagiati e oltre 27.000 morti di Covid-19. Le maggiori città sono le più colpite e lunedì gli operatori sanitari hanno lanciato un'allarme in saturazione ospedaliera. Tra malati di Covid e incidenti legati all'abuso di alcol durante le feste, il sistema è vicino al collasso.